11 multe per affissioni abusive e a guardare la città in effetti sembra che se le meriti tutte. Bari è tappezzata di manifesti selvaggi e questo costerà al circo che porta il nome di Moira Orfei una stangata da 4.500 euro. Una linea dura portata avanti dall'assessore comunale all'ambiente Pietro Petruzzelli che con un post sulla sua pagina Facebook denuncia le irregolarità e lancia la campagna di boicottaggio con l'hashtag io non porto mio figlio è diventato subito virale. Un altro circo che imbratta la nostra città spiega l'assessore con manifesti abusivi poi l'annuncio. Almeno 11 le sanzioni elevate dai vigili urbani del valore di 416 euro ciascuna. Questi circhi utilizzano animali scrive nel post in più imbrattano la nostra città. L'appello aiutatemi a condividere questo post e a diffondere la campagna io non porto mio figlio al circo perché chi viene a Bari deve comportarsi bene. Portiamo i nostri figli nei parchi, gli animali facciamogli rivedere in televisione o sui libri e non sono in pochi a chiedere all'assessore di vietare le autorizzazioni dei circhi a Bari. Qualche comune ci ha provato ma ha perso la battaglia quando è arrivato il ricorso al TAR. Replica l'assessore.